Sì, un dia un hobby esitoso, un hobby è interessato, come in, è becita cominciando un piccolo, ma in trempando, però mi dice che è allo stesso, cominciando a caire un buon euro, quindi l'ho adorato, però oggi è un hobby drug, un hobby resale, un buon ambiente, un hobby stanz, con un hobby differente cose, come in, da un buon sorti anche, un bar, un buon sorti, e noi organizziamo sempre un hobby tour, con tre hobby interessi di noi, visitanti. Maurizia Bisa, tour, vi chiamo un par di tour con te, a un'emenda. Sì, noi cominciamo a un tour di cortamento di erba, con bultamento di erba, in cui abbiamo un tour di nostro cibo di bestia, dove ogni ora, dove troviamo un luogo, dove abbiamo bisogno di nostra idea, di profissionalizzare i nostri cibo di capriti e carnet, però anche abbiamo un tour molto piccolo, dove non abbiamo bisogno di comina, comina secca, con un'emenda. perché ne abbiamo bisogno di un tour, con il mentre hanno bisogno di un'emenda, con un'emenda, con un'emenda. quindi abbiamo un buoncino, che ci sono un buoncino, e qui abbiamo un buoncino in cui abbiamo un buoncino, anche per la cultura e anche per la nostra attività, e ci abbiamo un buoncino culturalmente. Quanto è importante che abbiamo in Bonero? Perchè, abbiamo un prodotto in cui loco. Abbiamo un'interesse di Boneriano per provare un'emero, Noi naturalmente plantamento, però poi tra i gius, chutney, cucumina, eccetera. E' molto bello per la gente motiva. Quando c'è un stand, quando c'è un bambino, c'è un bambino, questo motiva la gente per andare a provare qualcosa in casa. A base della situazione, con poco e poco, abbiamo organizzato la actività di massi e massi, che abbiamo avuto qualcosa di nuovo, che abbiamo provato qui. Stimulare la gente, produrre qualcosa, e stimulare la gente come crea di bambino, come crea di bambino o come plantamento. Quale è la actività di Pueblo di Bonneiro? In generale, abbiamo organizzato la actività di quattro luni. Quattro luni, quando siamo arrivati in juni, abbiamo organizzato la gente. Durante l'anno, abbiamo organizzato un po' di corsi, ma prima cosa non voglio più. ci sono forti d'attività di stia. Una città diiness. La magia dell'anno è importante, è ciò che rimane la gente, Notizia la nostra Facebook ma città di LVV Bonneiro, in il nostro guardato e le actività di di LVV, e abbiamo organizzato un actività di LVV. www.albbbonero.com